Festival dei Matti, Teatro Goldoni di Venezia, siamo molto contenti di avere accanto a noi Umberto Galimberti, a cui diamo un buonasera, abbiamo appena assistito alla sua conferenza. Alcune domande per gli ascoltatori di Sherwood.it, intanto partiamo con la prima, lei crede che si possa cominciare a parlare di follia slegandola dalla parola patologia? Sì certo, perché se no saremmo tutti patologizzati, perché la follia è il nostro costitutivo, ciascuno è se stesso ed è diverso dall'altro per quel tanto di follia che ha, perché per quanto riguarda le regole della ragione siamo tutti uguali e allora prendendo confidenza con la nostra follia forse acquisiamo anche gli strumenti per parlare di coloro, con coloro che la ragione hanno disabitato per un certo periodo, perché la follia non è una condizione eterna. Quali sono secondo lei le malattie più importanti della nostra società, del nostro tempo? Le malattie più importanti oggi come oggi sono la depressione, però ha cambiato forma rispetto agli anni 50, non è più organizzata su un senso di colpa, perché siamo usciti dalla società della disciplina che vigeva fino agli anni 50 e 60, siamo entrati nella società dell'efficienza, dove ciascuno deve raggiungere gli obiettivi che i vari apparati tecnici impongono, alzando di anno in anno l'obiettivo, per cui dopo subentrano quelle dimensioni di ansia, di insonnia, di preoccupazione, di disidentità, per mancato riconoscimento. E allora per essere all'altezza delle prestazioni, visto che questa è la logica, ci si aiuta con gli psicofarmaci e in qualche caso anche con le droghe. Questa è la depressione come figura di fondo e come sfondo della nostra cultura, siamo tutti molto malinconici. Poi dopo c'è invece quella pozzia conclamata, che oggi si chiama schizofrenia, dove ciascuno di noi vive con la popolazione interna, che tutti noi abbiamo e che teniamo a bada, ma che lo schizofrenico invece manifesta, tant'è che in America le società schizofreniche hanno assunto come motto, noi non siamo mai soli, tanti demoni e tanti personaggi li abitano, parlano al posto loro, certo è una condizione di grande sofferenza naturalmente, perché non c'è più un io che governa questa popolazione. Certamente. Siamo un paese, secondo lei, in cui si vive bene rispetto anche a quello di cui si parlava prima, cioè alla grande diffusione della psicoterapia e delle psicoterapie. Lei ha parlato di ideologia della psicoterapia. Una volta non c'erano i psicologi, l'ha detto anche lei prima, lo citava, c'erano i preti. Cos'è cambiato? È cambiato che... Poi io parlo di mito della psicoterapia perché sotto sotto c'è l'idea che ciascuno ha un sé debole, ciascuno ha bisogno di un tutor e quando noi ci convinciamo di essere tanto deboli, tanto bisognosi di tutor, succede che se ne avvantaggia il potere, perché il potere lavora meglio quando la popolazione ritiene di aver bisogno di una guida. Führer voleva dire guida, no? Dux vuol dire quello che conduce. E allora stiamo attenti che sotto il mito della psicoterapia c'è anche un'ipotesi politica che ciascuno non sta in piedi sulle sue gambe e quindi favorisce una richiesta, Nietzsche diceva, di un animale capo. L'ultima domanda che le volevo fare è quali sono poi i meccanismi che si possono mettere in campo per uscire dal binomio follia-pericolosità che poi inevitabilmente portano all'esclusione sociale. Una delle grandi domande che si pongono anche le persone che proprio vengono assistere a giornate, a momenti come questo. Dunque la follia diventa pericolosa in proporzione al rifiuto sociale. Su questo non ci piove. Chiunque di noi che si senta rifiutato dalla società ha un aumento di violenza. Lo vediamo per esempio nei giovani, che molto spesso abbiamo visto recentemente a Roma, quando uno vive un'esclusione sociale totale, pur di non assistere continuamente da imbelle alla propria esclusione sociale, diventa violento. Allora il folle è folle, ma non è necessariamente violento. Lo diventa quando vede che tutte le sue manifestazioni sono manifestazioni non accolte e soprattutto quando il dialogo con loro si interrompe. E questo accade sia ai normali che ai folli. Solo che il follo manifesta questa sua cosiddetta violenza in maniera imprevedibile. Ma è anche imprevedibile il suicidio dei giovani, che non motivano la ragione per cui si suicidano. Ed è anche immotivata l'esplosione che succede nelle famiglie, che è il luogo imminente dalla violenza. Perché siccome la nostra società ci prevede tutti i corretti, tutti educati, tutti i gentili, poi quando si va a casa si assume la propria condizione psicologica come lo scarico di tutte le emozioni che si sono trattenute e si diventa violenti. La differenza tra il follo e il normale è l'imprevedibilità della sua manifestazione violenta rispetto alle persone cosiddette normali. Ma il meccanismo identico, il rifiuto sociale, è automaticamente un incentivo alla violenza. Ma c'è una formula di inclusione sociale che può funzionare, secondo lei, che può essere applicabile ovviamente ai nostri tempi, al nostro tempo? Ma io mi rifarei ancora a quello che diceva Gorgia. Le parole sono farmaci. Alcuni incoraggiano e aiutano a vivere, altri invece deprimono e riducono la voglia di stare al mondo. Ora, perché non ci fidiamo della parola, quindi della parola che si scambia, della parola che si ascolta? Se noi ci fidassimo di questo, tante patologie si ridurrebbero quanto a intensità e quanto a sensazione di essere isolati e soli nel mondo. Non dico che la parola guarisce, certamente attenua, del resto chiunque di noi ha un dolore la prima cosa che fa è andare a raccontare a un altro, perché altrimenti il dolore diventa devastante. Invece la comunicazione è sempre una dimensione che alleggerisce la carica del dolore. E allora bisogna parlare, ma parlare non tanto per incoraggiare, quanto piuttosto per condividere, per far sentire che io ti capisco, non per capire, ma per far sentire all'altro che io partecipo alla sua sofferenza. Questi sono doti umani, non è necessario essere medici per sviluppare queste cose. Esattamente. E l'empatia, che possiamo anche tradurre con la parola simpatia, che ha il suo contrario all'antipatia, è la condizione per entrare in relazione. Grazie a tutti.